Qui è peggio di uno zoo, siamo in gabbia ma nessuno ci viene a salutare. Che caldo che c'è con questa sciarpina! Che confusione fanno quelli di sotto? Uffa, non ne posso più, voglio muovermi, uscire! Che confusione fanno quelli giù? Fra un po' divento sordo! Come sono stupidi e inutili quei vecchi rottami! Già, è vero, sono stupidi perché sono vecchi e arrugginiti! Gli aspirerei una volta! Guarda a me quante luci emetto, invece loro emettono solo polvere! Almeno io servo a qualcosa, aiuto chi vuole leggere e illumino tantissimo! Gli oggetti nuovi pensano di sapere tutto! In verità siamo noi che sappiamo di più! Adesso ci vendicheremo! Loro ci hanno imprigionato e non ci libereremo! Siamo qui da quasi 50 anni! Penna a stilo, prova a liberarti! E se ci riesci libera anche noi! Ci provo! Se riesco vi libero! Bell'idea! Come una chiave cercherò di scassinare la serratura! Adesso vi libero! Oh, brava! Ma adesso cosa facciamo? Ora le la facciamo vedere noi a quegli oggetti di prima classe! Hai ragione! Elaboriamo un piano e scendiamo le scale per metterlo in pratica! Ho un'idea! Faremo saltare la valvola della luce! Dopo le rinchiederemo in gabbia e le faremo ragionare! Sì! Hai ragione! Faremo proprio così! È un ottimo piano! Bilancia! Salgo su di te e insieme, così, possiamo fare un blackout! Ok, adesso faccio saltare la valvola! Sì, un blackout! Così non funzioneranno più! Andiamo, bilancia! Ma faccio saltare la luce! Bene, non vedo niente! Sono cieco! Chi ha spento la luce? Andiamo! Come va senza elettricità? Siete un po' pallidi, mi sembra! Aiuto! Ti sta bene! Sono andato in tilte, sto morendo! Ops, forse abbiamo esagerato! Presto, portiamoli su! Adesso vi portiamo di sopra! Che vedete? Gli oggetti moderni sono finalmente in gabbia! Ci libereremo presto! Ci libereremo presto, ve lo prometto! Perché ci avete rinchiusi qua? Non vi abbiamo mica fatto niente! Invece sì! Ci prendete sempre in giro! Non pensavamo di offendervi, è solo che ora non servite più a nulla! Guardate che un giorno anche voi sarete inutili! Potremmo fargli vedere quanto eravamo utili e moderni ai nostri tempi! Buona idea! Così capiranno e ci rispetteranno di più! Solo allora li lasceremo andare! Prima però dobbiamo fare una cosa! Lanterna, vai con la bambolina a riattaccare la valvola! Altrimenti non possiamo vedere il filmato! Andiamo, vieni, ti faccio luce! Per favore fate silenzio, il filmato sta per cominciare! Come怎么了 ric곱 come uno che indica va bene a visto! Continua sempre in giro! He qualcosa di utile e ver bottom le apri qadores change. Da sì! Tornino avadino super 원� Arizona. Per favore tutto il treno! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.